Un Natale amaro per i residenti degli alloggi del progetto case. I bollettini per i consumi di metano per il riscaldamento e acqua calda sono cominciati ad arrivare nelle cassette delle poste. Un regalo un po' indigesto perché in moltissimi casi si tratta di una vera e propria stangata per i cittadini costretti a pagare gli arretrati da gennaio 2017 in quanto non conteggiati dalla loro amministrazione comunale. I moltissimi infatti dovranno pagare da 600 a oltre 1000 euro da gennaio a giugno 2017. In attesa della seconda stangata, quella del secondo semestre successivo, l'attuale amministrazione ha deciso di dividere le rate mensili. Infatti sono state emessi 7 bollettini da circa 140 euro ciascuno. Nell'ingarbugliata situazione si inserisce un'altra situazione. L'azienda che ha l'incarico di stampare le fatture emanate dal comune ha fatto un errore. C'è infatti un dato sbagliato nel codice a barre in fondo a destra della bolletta che riporta una cifra differente da quella indicata che effettivamente bisogna pagare. Questo significa che gli uffici postali e le tabaccherie abilitate non possono accettare il bollettino. L'unica soluzione è che l'operatore inserisca a mano la cifra esatta. Il comune comunque sta già facendo ristampare i bollettini corretti per poi rispedirli di nuovo agli utenti, con ulteriori costi per il comune per la seconda spedizione. La prima rata del 31 dicembre potrebbe quindi avere una proroga.